Tragico incidente, nella serata di ieri a Poggio Cancelli, una frazione del comune di Campotosto, a pochi passi dall'Aquila, vittima di un incidente sul lavoro Massimo Pennesi, 55 anni, originario di una frazione di Ascoli Piceno. È morto all'interno di un'azienda agricola della piccola frazione di Poggio Cancelli, mentre stava rifornendo di foraggio un allevatore del posto, così come accadeva da tanti anni. Per cause ancora da accertare, anche se la dinamica, ai carabinieri intervenuti sul posto e coordinati dal tenente Maximiliano Papale, capo del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri dell'Aquila, sembra chiara. Una fune che reggeva il carico di una rotoballa si sarebbe staccata, facendo cadere una parte della rotoballa stessa, che ha un peso di 400 kg, addosso all'uomo, uccidendolo sul colpo. Ad allertare il 118, anche se non c'è stato nulla da fare per l'uomo, il titolare della stalla in cui è avvenuto l'incidente, nonostante il tempestivo intervento del personale in elicottero per l'autotrasportatore, non c'è stato purtroppo nulla da fare. L'area dove è avvenuta la morte è stata sottoposta a sequestro, mentre la salma è stata subito messa a disposizione del PM, la dottoressa Roberta Davoglio. Sembra escluso il convolgimento di terzi nell'incidente.